Sono un amico di Stella dell'Appennino, anzi, sposa appieno questo progetto e sono fiero di usufruire dei prodotti di Stella dell'Appennino. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ciao, sono Davide Fiorentini, titolare e fondatore di O'Fiore mio. Grazie per la visione! Grazie per la visione! L'Elsa ci ha sempre deliziato con le sue paste fresche e dalla mora romagnola ai grandi di San Giovesi, non ultimo in carta il Pinot. Sicuramente è un momento di convivialità, è un momento di confrontarsi anche con i colleghi ristoratori e con i grandi produttori. Poi ho avuto la fortuna di poter servire il pane di O'Fiore mio in tavola e spero che abbia accompagnato bene le grandi licorni che ho visto presentate in tavola oggi.